Oh, mio Dio. Che stai facendo? No! Carrianna! Elissa! Signora Cassidy? Sto cercando Elissa qui da te. No, signora. Io non mi arrabbierai se fosse qui. Promettimi che non racconterai a nessuno di Carrianna. Sì, lo prometto. Abbiamo una nuova vicina. Si chiama Elissa. Lei e sua madre si sono appena trasferite. Non voglio che le accada nulla. Cos'è successo di precisone? La figlia, Carrie Anne, ha ucciso entrambi i genitori. Quella casa è il motivo per cui abbiamo potuto permetterci questa. Davvero? Duplice uicidio. Vedrai tesoro, ci troveremo proprio bene qui. Coke metà. Oh. Ho. Oh. 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 Grazie a tutti